Gentili telespettatori, buona giornata. Migranti, se ne parla a giorni alterni o a settimane alterne, questa settimana si è parlato poco o nulla, ma allora viene da pensare che le partenze e gli sbarchi sono diminuiti, tutt'altro. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 17 navi arrivate, barche, con 680 immigrati clandestini, illegali. Stiamo parlando di una media tra i 200 e i 300 mila arrivi solo facendo una proporzione, una proiezione, solo con gli arrivi delle ultime 24 ore, si parla di 200 e i 300 mila in proiezione. E siamo a dei livelli tripli rispetto all'anno scorso, tripli, anche se si immagina che gli arrivi siano molti di più di quelli che vi ho appena detto, si va verso 6, 700 mila, forse un milione. A Lampedusa ci sono 1436 ospiti, quando questo centro ne può tenere 200, 300. E così 17 sbarchi da navi, barche, 680 persone, e questi sono gli sbarchi e tutti sono finiti a Lampedusa. I nuovi arrivi stanno impegnando già dalle nove di ieri, guardia di finanza, capitaneria, assetti Frontex. A sbarcare a Lampedusa ci sono anche tante donne e minori. Ieri sono, dicono quelli che arrivati ieri, dicono di essere partiti da Zarzis, da Cebba, da Gebiniana, da Cherchenna, ed aver pagato fino a 4.000 dinari, non dollari, 4.000 dinari, per riuscire ad arrivare in Italia. Dobbiamo precisare che si è parlato di 8.000 euro attraversata, no, sono 800 euro, hanno messo uno zero in più. Ecco, 8.000 euro non è vero, non è vero. In alcuni casi ci sono delle traversate più costose delle altre perché i trafficanti fanno anche diverse categorie di partenze, quelle di lusso, quelle un po' meno, quelle economiche. Una partenza media, una partenza media dalla Tunisia costa 800 euro, non 8.000 euro. Dove li trovano 8.000 euro? Parliamoci chiaro. Altri 47 migranti sono stati trovati dai carabinieri mentre erano sulla spiaggia di Cala Pulcino a Lampedusa. L'imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata. Il gruppo, composto da persone originarie della Costa d'Avorio, del Gambia, della Guinea e del Senegal, hanno riferito di aver pagato 2.500 dinari tunisini ed essere salpati da sfax alle 6 di ieri. È il tredicesimo sbarco dalla mezzanotte per Lampedusa. Che cosa può fare il governo con queste, con tutti questi arrivi? Il governo dice l'Europa deve fare il blocco navale, ma non lo farà mai. L'Europa deve fare una missione navale per fronteggiare, fronteggiare non si fa bene che cosa, per sorvegliare, ma che cosa? Una missione navale militare è uno specchietto per le allodole per i votanti, per il popolo votante, perché una missione navale nel Mediterraneo non serve a nulla, perché che cosa fa? Vigila che cosa? Ecco, quindi che ci sia la missione navale europea, una missione navale di controllo. La missione navale non può far altro che aiutare i soccorritori a individuare le barche e a farle portare a riva, quindi non risolve assolutamente nulla. E allora il decreto flussi. Il decreto flussi è una sanatoria per quelli che sono già qua, qua in Italia. Legalizzi persone che non hanno i documenti per sfruttarle, mandarle a lavorare nei campi, sottopagate, eccetera, eccetera. Il governo dice facciamo nuovi centri di accoglienza, ma nuovi centri di accoglienza non risolve minimamente il problema degli arrivi, quindi voi vedete che realmente non c'è nulla di nulla che viene fatto o viene ideato per fermare gli arrivi. Era stato fatto quel famoso decreto con dentro le regole per le ONG. Che cosa è successo? Queste regole che dovevano fermare le ONG, sequestrarle, confiscarle, dovevano sparire queste ONG, questo pull factor di attrazione che farebbero partire molte molte persone. Diciamo che questo decreto non è servito assolutamente a nulla, anzi è servito a un qualcosa di diametralmente opposto, perché nel decreto c'è l'assegnazione immediata di un porto di sbarco, quindi non c'è più neanche il braccio di ferro, no? Tu non arrivi, vai da un'altra parte e questo è stato fatto per non innervosire l'Europa e per permettere in Europa di vincere la Melonia alle prossime elezioni con i conservatori. Quindi tutto viene fatto per non molestare, non dar fastidio all'Europa per poter vincere le elezioni. Quindi il famoso decreto con le regole sugli sbarchi era assolutamente non ininfluente ma ha sortito l'effetto completamente opposto, quello di assegnare immediatamente un porto di sbarco, senza se e senza ma. Quindi vedete che non c'è nessuna azione per fermare le partenze e gli arrivi. Niente, nulla di nulla, quelli che partono se non hanno problemi nella traversata arrivano in Italia. Questa è la situazione che piaccia o non piaccia a tanti tifosi della politica. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo al prossimo video.